Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta brasiliana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, cacao amaro, latte, zucchero, caffè solubile, lievito per dolci, sale, gocce di cioccolato e granelle di nocciole. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte lo zucchero senza lavare il boccale aggiungiamo il latte e lo facciamo scaldare per 3 minuti 50 gradi, velocità 2 aggiungiamo lo zucchero la farina il cacao il caffè solubile e il pizzico di sale ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5 aggiungiamo il lievito ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5 trasferiamo il composto in uno stampo da 26 cm di diametro foderato sul fondo con carta da forno e imburata ai laterali adesso mettiamo nella superficie le gocce di cioccolato e la granella di nocciole cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 20-25 minuti circa la torta è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo torta brasiliana grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti